Uno di fronte all'altro, medico e paziente, però a distanza? Chissà se ci cureremo davvero così con la famosa rivoluzionaria telemedicina, nei quasi 20 miliardi di euro che il piano di ripresa prevede per la sanità, uno dei capitoli più innovativi è proprio questo, gli altri riguardano la digitalizzazione e le case di comunità, futuro caposaldo dell'assistenza sul territorio. Solo che fino a quel momento la situazione racconta realtà molto più arcaiche, fatte di liste di attesa infinite, rinuncia alle cure e carenza di personale sanitario. Due milioni di italiani non hanno il medico di base, perché è andato in pensione senza sostituto o ha scelto la libera professione, anche all'estero, chiaramente è più redditizio. C'è una privatizzazione strisciante, silente, tocca a una delle più grandi società pubbliche, in fondo il servizio sanitario lo è, che ha ceduto una quota intorno al 25% a un'immaginaria mega holding delle cliniche, della diagnostica e degli studi, magari convenzionati anche con mutue e polizze. In ogni caso dall'accesso riservato solo a chi può pagare. Uno dei tanti aspetti della disuguaglianza che ormai segna il paese, dividendolo tra ricchi e poveri, nord e sud, regioni con tante convenzioni e altre con pochi ospedali. In un decennio ne sono stati chiusi 130, molti sono stati depotenziati, con risultati mediocre per servizio, competenze e merito. Nel 2022, ultimo dato, gli italiani hanno sborsato di tasca propria per curarsi 40 miliardi, in media 1.700 euro a famiglia. Allo Stato l'onere dei restanti 130, non pochi. Però se si ragiona di quanto l'attenzione alla salute incida come spesa sul prodotto nazionale, si scopre che quel vanto leggendario di avere un sistema perfetto, o quasi, quel ritornello per il quale certo costa tanto, ma funziona, si incrina non solo davanti alle liste d'attesa, ma anche a una classifica. L'Italia spende per la sanità, meno della media dei paesi industrializzati, molto meno di Germania e Spagna e quasi come la Francia. Senza contare che il nostro paese si colloca al 14esimo posto in Europa per numero di medici ogni 100.000 abitanti, ha il record della loro anzianità di servizio e il ricambio è difficile. Servono dieci anni di studio, comprese le specializzazioni, alcune in estinzione, perché le responsabilità pesano, stressano e si può sbagliare. La chirurgia non la sceglie più quasi nessuno, non è un caso. La spesa, sempre lei. Nel caso della sanità in un paese che invecchia è difficile che scenda, ma è un dovere evitare gli sprechi. Però anche curare è un dovere, e i tagli sono stati invece spesso lineari, indiscriminati, confusi, altro che bisturi, guai quando la cura diventa peggiore dei mali. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori, buon sabato. La copertina di Marco Fratini, insomma, è evidente che oggi ci occupiamo di sanità. L'anno scorso abbiamo celebrato i 45 anni dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, nato nel 78. La sanità, certo, è probabilmente la più grande infrastruttura sociale del paese, la sanità che vive un momento di crisi, che è oggetto di feroci contrapposizioni politiche, come sapete, che deve garantire un accesso alle cure equo per tutti, che deve fare molto di più sulla prevenzione, che deve guardare anche al futuro, all'innovazione, alla ricerca, a tutto quello che arriva dalle scienze per la vita e deve guardare ovviamente alla composizione della popolazione con l'invecchiamento che in Italia in particolare, ma non solo in Italia, è un fattore di grande importanza per la cosiddetta sostenibilità. Parleremo di tutto questo oggi con diversi ospiti, con, si direbbe, un bel parterre di ospiti. Saluto intanto collegato con noi Matteo Bassetti, direttore di infettimologia all'ospedale San Martino di Genova. Bentornato, professor Bassetti. Buongiorno, buongiorno. Poi con noi ci sono in studio il senatore Francesco Zaffini di Fratelli d'Italia, che presiede la Commissione Affari Sociali e Sanità del Senato. Bentornato. Buongiorno. Dovi il bentornato all'onorevole Beatrice Lorenzin del Partito Democratico, una delle più longeve ministre della sanità di questo paese. Bentornata. Saluto collegata con noi Barbara Cittadini, che presiede AIOP, che è l'associazione, per capirci, che rappresenta le case di cura e gli ospedali privati. Bentornata. Buongiorno, grazie. E poi ci avvaliamo anche della competenza e dell'esperienza di un economista come il professor Leonardo Becchetti, che insegna a Tor Vergata, fa l'editorialista. Poi parleremo anche del suo nuovo libro, che insomma affronta anche i problemi della sanità, ma affronta i problemi che riguardano i mali della nostra democrazia, diciamo, in generale. Allora, professor Bassetti, mi verrebbe da chiederle subito, a caldo, come sta la nostra sanità? È una sanità, è una malattia cronica, purtroppo, ed è una malattia che ormai la affligge da almeno 20-30 anni. Quindi oggi vediamo soltanto quello che è le complicanze di una malattia che appunto vede le sue radici quando si è deciso di disinvestire pesantemente nella sanità e questo è avvenuto evidentemente negli ultimi 20-30 anni. Ma soprattutto oggi la sanità italiana ha problemi di persone, di teste, perché noi non abbiamo una macchina produttiva per quello che riguarda i medici, per quello che riguarda gli infermieri, ma in generale tutti gli operatori sanitari adeguata alle necessità che il sistema sanitario ha. Quindi non è soltanto un problema di risorse economiche, ma è soprattutto un problema di risorse umane. E quindi su questo io sento tanti discorsi, ma pochi fatti. Si è detto che il numero chiuso nelle professioni sanitarie era da cambiarsi, nella realtà io aspetto ancora di vedere qualche proposta perché ho sentito soltanto in questo momento che i poveri ragazzi che hanno deciso di fare i medici gli è stato detto che il quiz e il test non sarà più come era fatto fino all'anno scorso, mettendo tutti in grande confusione. Quindi i ragazzi oggi che vogliono fare i medici non sanno bene cosa dovranno affrontare di test. sappiamo soltanto quanti saranno i numeri. Quindi come sempre purtroppo la politica promette e non mantiene. Allora a proposito di politica vado dal senatore Zaffini che appunto ha un ruolo di responsabilità importante in Parlamento e un importante componente della maggioranza di governo. Allora intanto io vorrei che chiedo due cose. La prima una risposta proprio a quello che chiedeva il professor Bassetti. Sì, intanto a Bassetti rispondiamo che qualche volta la politica mantiene pure come nel caso di questo governo perché stiamo in commissione settima che è quella dell'università ma io sono relatore essendo presidente della commissione sanità stiamo elaborando la modifica delle regole di accesso alle facoltà biomediche in particolare la facoltà di medicina e chirurgia. il test il quiz il talk per capirci famigerato non sarà più non sarà più il modo per accedere alla facoltà di medicina e chirurgia ma in particolare non ci sarà più un test ci sarà perlomeno negli intendimenti allora facciamo così negli intendimenti del relatore che sono io almeno per me posso parlare negli intendimenti del relatore ci sarà un doppio canale d'ingresso il primo quello della valutazione degli esami del primo anno del primo semestre questo ancora dobbiamo metterlo a punto a fuoco e un secondo canale d'ingresso all'inizio minoritario perché va sviluppato che è la curvatura biomedica dei licei che è triennale questi due canali d'ingresso dovrebbero agire diciamo in alternanza nel senso che il primo cala e il secondo cresce sempre in relazione al numero programmato che resta quindi togliamo il numero chiuso per l'accesso al primo anno durante il primo anno c'è la valutazione la valutazione non avviene per coloro i quali hanno superato il triennio di curvatura biomedica dei licei perché entrano e accedono direttamente e però resta il numero programmato perché sappiamo tutti immagino che il professor Bassetti non intendesse togliere il numero programmato quello lo dice solo De Luca che non sa niente di sanità no vabbè adesso lo può replicare posso dire una cosa facciamo un applauso perché devo dire che se così sarà e devo fare i complimenti al senatore è esattamente quello che in qualche modo molti di noi avevano chiesto cioè fondamentalmente un sistema più meritocratico alla francese cioè entrano tutti e poi c'è un grosso imbuto diciamo tra il primo semestre e poi l'emissione dentro è quello che avremmo dovuto fare prima e quindi ben venga grazie di aver dato questo chiarimento perché siccome molti giovani mi domanda ma cosa succederà cosa faranno perché è stato rimandato il test in febbraio questo chiarimento lo ringrazio a nome di tanti giovani che vogliono fare i medici perché così ha dato un'idea di quello che sa allora mi conforta sentire da professor Bassetti che tanti giovani vogliono fare i medici perché invece secondo quello che si sente dire è che per certe professioni medico-sanitarie la vocazione stia diminuendo ma questo è un altro discorso no dicevo però è importante dire che il prossimo test non ci sarà il tempo per mettere in campo la riforma va fatta una legge e quindi il prossimo test non sarà il talk ma sarà comunque un test senta devo andare in pubblicità le voglio chiedere ancora una cosa noi abbiamo però i numeri per sapere quando finirà diciamo la curva in questa curva di crisi di mancanza di medici e infermieri il picco quando lo supereremo? 4-5 anni 4-5 anni sì perché un medico si forma in 10 barra 11 anni tanto per capirci che prospettive abbiamo pubblicità torniamo subito che poi uno è già passato allora adesso riprendiamo insomma è stato già interessante questo inizio perché è importante per chi come prospettiva di vita e professionale ha quello di impegnarsi nella sanità c'è stata l'altro giorno diciamo l'ultima riunione della conferenza delle regioni ebbene si è parlato appunto delle criticità che riguardano il sistema sanitario il coordinatore diciamo dei governatori dei presidenti delle regioni che è Massimiliano Federica come molti di voi sanno ha detto servono scelte forti sentiamolo abbiamo approfondito tutto il tema sanitario oltretutto devo dire in modo innovativo rispetto al passato quindi non guardando soltanto l'emergenza ma formuleremo delle proposte al governo e devo dire anche delle proposte per le singole regioni per affrontare a tutto campo le criticità che esistono nel sistema sanitario questo significa per esempio la carenza di personale sanitario con anche prospettive diverse rispetto alla componente medica che dalle previsioni dal 2028 troverà un numero di medici formati superiori ai professionisti che vanno in pensione e quindi rispetto all'emergenza di disponibilità di medici dal 2028 verrà superata quando invece la carenza di infermieri sarà sempre più consistente su quale dobbiamo intervenire abbiamo chiesto e faremo una riflessione anche sulle competenze delle professioni sanitarie così da permettere un ampliamento di utilizzo dei professionisti per dare maggiori risposte e magari alleggerire la parte medica di alcune incombenze che li distolgono dall'attività prettamente professionale per la quale si sono formati ha detto delle cose molto chiare intanto mi viene una battuta guardando il senatore Zaffini voi affronterete se durerete l'intera legislatura le maggiori criticità perché dal 28 sentivamo me lo confermavo anche lei poco fa diciamo piano piano riguadagneremmo soprattutto i medici rispetto ai tanti che sono andati via in pensione o magari sono andati all'estero un'altra cosa che volevo sottolineare è che introducendo il discorso delle regioni si parla di un'altra cosa che tutti sanno coloro che seguono la sanità coloro che vivono la sanità è che la nostra sanità è amministrata da 20 regioni ci sono 20 servizi sanitari regionali che per molti è un vantaggio per altri è il grosso del problema della sanità e vado e vado da Beatrice Lorenzini no perché ho introdotto questo argomento perché adesso le do la parola l'altro giorno c'è stato un rapporto importante dello SWIMES in collaborazione con Save the Children che cosa ha detto questo rapporto una cosa che è sotto gli occhi di tutti che i divari in sanità tra il nord al sud sono enormi e aumentano vi faccio vedere rapidamente dei cartelli molto semplici il primo cartello riguarda la spesa sanitaria pubblica corrente in percentuale del PIL che è ancora oggetto di polemiche tra maggioranza e opposizione e come vedete c'è il raffronto con Francia Germania Italia Spagna Regno Unito Grecia e Portogallo ecco e c'è diciamo ognuno può rendersi conto di quello che riguarda la spesa nel nostro paese poi c'è il cartello successivo che riguarda un altro tema di grandissima contrapposizione cioè la contrapposizione tra il pubblico e il privato in questo caso la spesa sanitaria pubblica e privata anche qui c'è il raffronto con gli altri paesi europei vedete l'Italia è al centro di questo schema e in giallo c'è la percentuale che riguarda la spesa privata in blu diciamo la spesa pubblica il dato si riferisce al 2022 e poi c'è la speranza di vita alla nascita questo mette molto insomma i brividi perché qui si parla dell'Italia nel nord ovest nel nord est nel centro nel mezzogiorno e guardate i colori diversi riguardano gli uomini e le donne in giallo guardate qual è la percentuale che riguarda in particolare il mezzogiorno e infine vi faccio vedere un altro cartello che è il tasso di mortalità per tumori tra i 20 e i 64 anni anche qui il raffronto è tra le diverse aree del paese nord ovest nord est centro e mezzogiorno questi dati ve li facciamo vedere ma li trovate tranquillamente sul sito dello Svimez e credo anche di Save the Children allora il regionalismo è uno dei grandi problemi? secondo me sì però ormai mi sembra diciamo inutile parlarne nel senso che noi abbiamo la necessità io ho sempre pensato che andassero superati i limiti del titolo quinto con diciamo la capacità di mettere in campo dei correttivi purtroppo oggi stiamo votando il super federalismo quindi insomma l'autonomia differenziata quindi mi sembra che questo treno sia passato io ritengo che ci siano molte criticità nell'autonomia diciamo differenziata così come viene posta soprattutto per la sanità e per i sistemi di welfare non solo per i livelli essenziali dei prestazioni che è il tema di cui parlano tutti ma anche per tutto il tema della formazione cioè formazione ricerca sono questioni che sono molto interconnesse poi con i sistemi salute per oggi io immaginavamo tutti che dopo il covid ci fosse la consapevolezza che c'era la necessità per esempio su tutti i temi di prevenzione di una modalità operativa quindi di un modello organizzativo diverso io spero che ci sia ancora il tempo per una riflessione di questo tipo ma posso chiedere una cosa visto che lei ha citato il modello organizzativo cioè quando adesso io cito Giorgia Meloni che fa la Presidente del Consiglio ma non è l'unica ad averlo detto ma quando la Premier dice le risorse sono importanti ma è importante in come si utilizzano ma io sono assolutamente d'accordo io credo che alla luce innanzitutto voglio fare una premessa che non succede quasi mai ma sono veramente d'accordo con quello che ha detto prima Zaffini quindi già già sul relatore Zaffini su come questa intesa di partisan mi fa piacere sul metodo di lavorare per garantire un diverso accesso a medicina ma soprattutto con l'obiettivo di formare bravi medici quanti ce ne servono specializzarli e bravi siamo d'accordo e già questa mi sembra una buona notizia non per me o per lui in generale vuol dire che credo che questo sia importante su certe cose trovare dei punti in comune per quanto riguarda invece il malato cronico salute di cui parlava prima Bassetti dove ci sono problemi di tipo finanziario di tipo organizzativo di modelli anche e oltre che ovviamente di diciamo capacità di riforma del sistema le regioni quello che hanno denunciato se tu prendi il rapporto svimez sulle diseguaglianze e questo lo sappiamo tutti che se ha un cancro al sud non è la stessa cosa che averlo a Milano o a Roma sono cose diverse guardi non è solo sud o nord sono le regioni che hanno centri di ricerca che hanno IRCS che hanno accesso alla sperimentazione clinica che possono dare terapie innovative ai loro pazienti che hanno le reti e questo richiede anche uno sviluppo generale su determinati settori dopodiché le regioni ti dicono una cosa noi non abbiamo abbastanza risorse non abbiamo risorse umane e risorse economiche anche regioni che andavano bene fino a qualche anno fa hanno dovuto attingere fortemente all'extra LEA cioè gli extra budget per poter continuare a garantire determinati servizi che fare? sui medici noi sappiamo che tra quattro anni più o meno l'imbuto sarà finito riusciremo a coprire ma è già un orizzonte però questo diciamo è un orizzonte che si sapeva con l'aumento del numero programmato già da due anni il punto vero sono le carriere infermieristiche cioè senza infermieri noi abbiamo un grande problema sugli infermieri ce ne mancano 65 mila e non si iscrivono alle scuole di specialità cioè alle scuole di infermieristica non si iscrivono non è come a medicina che non riescono a cedere perché però le chiedo perché qualità del lavoro stipendio carriera cioè abbiamo mantenuto e c'è una resistenza a una trasformazione del lavoro sanitario verso gli infermieri rispetto a persone che sono laureate che spesso hanno una specializzazione un master e che quindi potrebbero essere utilizzate all'interno del servizio in modo molto più innovativo e poi c'è il tema vero della remunerazione dei nostri professionisti guardate questa è una questione che certamente non si risolve lo dico a Zaffini con una bacchetta magica non ce l'ha nessuno qui ma quando tu hai sul personale cioè sul capitale umano una concorrenza globale ed europea tutti sono a caccia di persone e gli italiani sono bravi quindi sono ancora più cacciati e la differenza la fanno gli stipendi quello diventa un tema di competizione però come si incrocia questo tema con quando si fanno i ragionamenti a proposito mi limita l'Europa su altre questioni perché torna sempre in campo questo torniamo sempre sulla spesa sugli investimenti perché poi è importante l'attrattività di un paese da tutti i punti di vista quindi anche da tutti i punti di vista degli stipendi adesso prima di andare a Barba Cittadini coinvolgo il professor Becchetti a me viene in mente una cosa dirò una cosa semplice ma provocatoria io ho conosciuto tantissimi infermieri molto bravi non italiani se c'è un limite per cui non troviamo tanti italiani che vogliono fare l'infermiera abbiamo bisogno di allargare la quota degli stranieri proprio per colmare questo gap io sono sicuro che ci sono moltissime persone che partono da un tenore di vita molto più basso che non vedono quella professione come un progresso e non come un arretramento e ho testimonianza stando dentro gli ospedali che ormai questo sta accadendo ci sono molti infermieri non italiani che lavorano anche alcune regioni hanno chiamato medici da altri paesi poi c'è un altro problema che è quello c'è un altro problema che è quello della maledizione dei prezzi bassi cioè noi economisti diciamo sempre che quando un prezzo è molto basso e deve essere perché la sanità pubblica c'è un eccesso di domanda l'eccesso di domanda crea sempre file d'attesa e scarsità di offerta allora il problema vero è incentivare anche i medici a lavorare nel pubblico perché se facciamo le case di comunità abbiamo costruito i muri ma come si dice in questi giorni non ci sono i medici che ci vanno a lavorare bisogna dare degli incentivi a fare una parte sono solo economici questi incentivi per esempio il ministro parlava di incentivi per fare il tempo nel pronto soccorso che è uno dei luoghi più come sappiamo più messi sotto stress anche perché nei pronti sì gli straordinari anche perché nei pronti soccorso noi sappiamo che arrivano proprio perché manca la sanità di territorio arrivano molte persone che vengono per fare la visita pediatrica ai figli ho assistito diciamo su dieci persone che arrivavano cinque avevano dei problemi che si risolvevano tranquillamente dal pediatra però io dico questa è una cosa resta che il nostro sistema è un sistema straordinario gli stranieri quando parlano della sanità italiana si commuovano noi difatti diciamo sempre bisogna tenerselo stretto è straordinario bisogna capire quali sono i problemi diciamo il mantenimento degli standard non c'è dubbio cioè di avere persone che abbiano una formazione adeguata rispetto a quelli che sono i nostri standard lo dico perché forse voi lo sapete ci importiamo quelli meno bravi e sportiamo i bravissimi dei medici cubani ma quelli sono bravi che sono bravi però non avevano dimestichezza con delle apparecchietture che per esempio si trovano nei nostri ospedali io parlo degli infermieri e quelli che ho conosciuto io sono straordinari però noi abbiamo avuto un problema serio sull'infermieristica durante il covid dove io stessa sono stata promotrice di aprire perché avevamo proprio un problema che poi ti arrivano da paesi dove non c'è l'ordine dove non hanno avuto cioè non è una contrarietà ma noi dobbiamo essere in grado di avere un sistema ma dove formiamo le persone e attraiamo anche quelli bravi infatti aprire dal momento della formazione secondo me è da lì che bisogna non c'è dubbio allora voglio coinvolgere Barbara Cittadini perché recentemente come IOP avete presentato credo un bilancio sociale e avete parlato di quelle che voi definite le fake news in sanità no? Quali sono le fake news in sanità Presidente dei Cittadini? Diciamo che abbiamo voluto presentando il nostro bilancio sociale abbiamo voluto assessare il concetto di fake news in sanità perché sovente quando si parla della nostra componente si parla del privato e noi ci teniamo con un retaggio di pregiudizi nei confronti del privato come se fossimo altro rispetto al sistema sanitario nazionale noi continuiamo a ragionare nella logica di componente di diritto privato di questo nostro servizio sanitario nazionale eroghiamo servizi e prestazioni ai cittadini italiani in maniera assolutamente sovrapponibile a colleghi ospedali pubblici facciamo parte della rete sanitaria nazionale siamo oggetto di una programmazione delle regioni e quindi questo sentirci dai media trattati come privato come altro rispetto alla sanità di diritto pubblico è un retaggio lo posso dire in maniera un po' prosaica come quelli che si arricchiscono sui problemi della salute degli altri questo è il racconto del privato spesso sì ma è un racconto fortemente ideologizzato falso che non corrisponde alla realtà perché poi noi siamo soggetti a una programmazione quindi ogni regione il professor Bassetti diceva 20 ahimè 21 con le province autonome sì sì 21 quindi 21 sistemi sanitari profondamente differenti da loro con 21 sistemi tariffari diversi 21 normative diverse e anche 21 programmazioni sanitarie diverse le dico una fact news si dice sempre che noi scegliamo in molti casi di non avere pronto soccorsi o terapia intensiva ci sono regioni che non ci consentono di avere pronto soccorsi cito due esempi per fare due casi di due regioni profondamente diverse nella programmazione anche nel vissuto del paese l'Emilia Romagna e la Sicilia al mio accento si capisce da dove provengo ecco l'Emilia Romagna e la Sicilia per una scelta della propria programmazione regionale hanno scelto di non chiedere alla componente di privato di avere pronto soccorsi e terapia intensiva secondo me questo ecco perché è fake news noi non selezioniamo prestazioni non selezioniamo servizi che sono maggiormente non remunerativi siamo soggetti a una programmazione che è molto interessante aspetti un attimo molto chiaro adesso qui sollecito l'ex ministro della salute e questo però è nell'autonomia regionale quando dico che abbiamo bisogno di un ripensamento e vedere anche come il meccanismo può funzionare c'è tutto il tema dei DRG però non ci siamo troppo tecnici perché poi noi abbiamo bisogno che dopo il covid che credo che insomma sia stato un stress test per tutti non possiamo continuare a ragionare con gli stessi occhiali che avevamo prima è cosa che stiamo continuando a fare dice lei diciamo in realtà sul tavolo più o meno è così quindi credo che ci sia bisogno lo dico in modo proprio non partitico di un grande momento di ripensamento del sistema in cui si mettono in linea i fatti però senza i fatti e si capisce dove si vuole andare soprattutto perché comunque il servizio sanitario nazionale e qui non lo dico alla cittadini per quanto riguarda la categoria che lei rappresenta e che è dentro il servizio è in grande sofferenza e quello che accade nelle regioni è che ogni euro che viene distolto dal finanziamento delle strutture pubbliche viene vissuto da quelle strutture come un qualcosa che li priva di un elemento di funzionamento però siamo tutti d'accordo però scusate ma non dico che loro hanno lo dico per il contesto per garantire diciamo la sanità in questo paese pubblico e privato devono stare insieme come già stanno ma la legge prevede questo c'è un'integrazione c'è una programmazione lo Stato ha in ampio diciamo in una concezione ampia compresa le regioni decidono e devono decidere come indirizzare la propria programmazione sanitaria cioè che cosa gli serve come ragionare e questo fa parte noi sappiamo però che la realtà è che poi nelle regioni italiane quello che accade è che a luglio sono finiti i budget e quindi tutto diventa molto complicato poi per arrivare da luglio a dicembre allora devo tornare un attimo da Bassetti due flash cittadini proprio un flash e poi Zaffini sì sì dico ci sono regioni dico il covid avrebbe dovuto insegnarci tanto perché dico che il nostro ruolo non è stato secondario in quel momento e noi abbiamo sperato che fosse una lezione che avrebbe determinato un cambiamento le dico una cosa noi suppliamo in tantissime regioni alle carenze di pronto soccorso e ogni giorno accogliamo nelle nostre sture proprio perché siamo parte del sistema sanitario nazionale pazienti che la componente di diritto pubblico non riesce ad accogliere perché come diceva lei all'inizio o come diceva con quel servizio all'inizio si è proceduto negli anni passati per motivi finanziari a una deospalizzazione selvaggia detto questo sono d'accordo con il ministro Lorenzin ogni euro tolto al sistema sanitario nazionale è una possibilità in meno data al paese noi ci consideriamo parte del sistema sanitario nazionale quindi non facciamo la differenza ho capito io come vedete siamo perfettamente d'accordo ecco io vorrei che si appunto squadernassimo i problemi e le soluzioni quindi non tocco questioni che sono oggetto di contraposizione politica quando le risorse non sono sufficienti c'è una diciamo è molto umano che ci sia una necessità ognuno di prendersene un pezzo per garantire il funzionamento è che dobbiamo fare in modo che il sistema funzioni tutto in modo integrato funzioni complessivamente dovunque però dicevo facendo la premessa che non mi interessa le polemiche però a fine devo chiedere che una delle accuse che fanno questa maggioranza è che stia privatizzando sempre di più i servizi sanitari sono loro che dicono queste cose che sono le fake news di cui parlava la cittadini cioè non c'è nessuna risorsa tolta alla sanità pubblica il privato convenzionato è il gemelli vogliamo chiudere il gemelli non lo so qualcuno pensa che si possa fare a meno a Roma del gemelli o a Milano del San Raffaele il privato convenzionato no un attimo fatemi parlare perché il privato convenzionato è stato inventato per abbattere le liste d'attesa e le liste d'attesa stanno ancora lì significa che il sistema l'ha fagocitato dentro una scarsità di programmazione ma ripeto il titolo quinto l'hanno fatto loro le professioni sanitarie ce l'hanno consegnate loro che non ci sono i medici non ci sono i infermieri non ci sono neanche i portantini cosiddetti per farci capire l'edilizia sanitaria al 50% non è adeguata all'antisismica al 30% non è adeguata all'antincendio all'antincendio il fondo sanitario nazionale è quello che è perché hanno tagliato negli anni in cui ammetto non è che è stata colpa di Lorenzin è troppo facile di essere stata colpa del ministro ma era l'epoca dei tagli lineari e comunque loro hanno tagliato quasi 30 miliardi in 9 anni dal fondo sanitario nazionale noi solo con questa finanziaria ce ne abbiamo messi 10 allora aspetta allora bisogna che questa roba bisogna dirla insomma altrimenti ormai gli italiani il loro giudizio se lo sono fatto adesso c'è la sanità è cambiata la società è cambiata oggi gli italiani hanno un'aspettativa di vita molto diversa rispetto a 10 a 15 a 20 anni fa significa più cronicità significa più necessità di assistenza territoriale e domiciliare significa cambiare la sanità bisogna vedere da un altro visto guardi che la privatizzazione un attimo un attimo un attimo perché si poi devo tornare la pazienza non c'è dubbio che andando oltre questa contrapposizione ideologica tra pubblico e privato siamo in un sistema ibrido il sistema ibrido secondo me mette assieme ci sono esperienze straordinarie come quelle della riabilitazione o altre mette assieme il meglio dei due mondi perché da una parte ci sono quelli che pagano a pagamento in tanti modi e quindi assieme alle rette pubbliche sussidiano la parte dove tu puoi entrare senza pagare nulla quindi nel modello ibrido nel modello ibrido noi teniamo assieme le due cose ed è un modo per superare quel problema la domanda di spesa sanitaria è infinita potenzialmente ma crescerà sempre di più ma è infinita perché ci sono progressi tecnologici nuove cure nuove medicine pensate se tutti potessero fare una coronarografia per vedere se hanno rischio probabilità di fare ovviamente non la possono quindi la domanda è infinita l'unico modo per mettere assieme le cose è questo cioè avere delle strutture che tengono assieme le due cose allora Bassetti un attimo devo sentire Bassetti è su tutta questa parte che sono Bassetti ma allora intanto ho molto apprezzato devo dire ringrazio sia Zaffini che Lorenzin perché finalmente oggi vedono una trasmissione che si vuole affrontare il tema pensando non alla contrapposizione politica ma al cittadino al centro quindi grazie a Zaffini grazie a Lorenzin basta contrapposizione dire no hai fatto tu no l'ho fatto io il sistema era malato quindi chi sia la colpa a questo punto lo abbiamo capito bisogna cercare di lavorare per migliorarlo però trovo ancora purtroppo una grande con mi spiace della Lorenzin ma c'è contrapposizione ideologica in questo paese perché non siamo stati capaci di far capire al cittadino che non è che pubblico è gratis è privato a pagamento perché questo è quello il concetto che spesso purtroppo una certa parte politica ha fatto passare ed è un errore la gente deve sapere che privato convenzionato è gratis uguale a pubblico per cui al di là dei tecnicismi perché se parliamo tra di noi nessuno ci capisce la gente deve sapere che se va al Sarafaele se va al Gemelli o se va all'Humanitas ha un'apprezzazione gratuita poi che l'eralgisca al privato e l'eralgisca al pubblico al cittadino non gli deve fregare niente che l'apprezzazione sia di qualità e sia nei tempi questo è un concetto che purtroppo mi spiace la dottoressa Lorenzin deve in qualche modo cercare di farlo cambiare anche ad alcuni suoi compagni di partito perché c'è una visione ideologica che è è un gravissimo errore finché considereranno il privato il nemico questo sistema non potrà mai migliorare allora io devo andare in pubblicità la replica rapidissima prima di andare in pubblicità siccome ci sono 5 anni di mie dichiarazioni sul fatto che il servizio sanitario è un servizio pubblico essenziale quindi è importante non tanto chi eroga il servizio ma come questo viene erogato e arriva ai cittadini io non posso essere tacciata di avere un approccio ideologico quello che sta succedendo infatti parlava dei suoi compagni di partito però quello che sta succedendo io ho una preoccupazione il cittadino oggi che cosa accade al cittadino oggi a mia mamma a mia zia alla mia cugina alla vicina di casa a quello che abita vicino a Bassetti capita che in moltissime regioni italiane se non tutte non riesce ad averlo questo servizio gratuito né dal pubblico né dal privato ma lo deve pagare di tasca sua questa è la privatizzazione quando tu hai 41 miliardi perché sono ormai diventati 41 di cui più di 30 out of pocket cioè vuol dire pagati di tasca propria non intermediati vuol dire che la persona va non è che non c'è né un fondo né un'assicurazione nella tua azienda cioè tu hai un problema serio poi c'è l'appropriatezza cosa per cui sono stata quasi impiccata all'epoca che è vero cioè tu devi avere sia nel pubblico che nel privato cioè in tutto il sistema visto che stiamo dicendo che è un servizio generale che deve funzionare insieme devi avere un'appropriatezza della prescrizione dell'accesso alla terapia e la diagnosi tutte queste cose stanno insieme e ci vuole appunto un meccanismo che sia in grado di riportarle in ordine perché ora non sono più in ordine ma quello che a me interessa come essere umano è politico e che oggi se tu hai bisogno di urgenza di urgenza di avere un approccio una diagnosi un'analisi te la devi pagare in moltissimi casi in moltissimi casi andiamo in pubblicità è tardissimo e poi questa è la realtà della vita e poi ripartiamo poi sentiamo i commenti ripartiamo dal Veneto il Veneto ha lanciato il family doc ma che cos'è è una sorta di sostituto del medico di famiglia del medico di base a pagamento e ovviamente anche questo ha riacceso le polemiche di cui stavamo parlando dopo la pubblicità si chiama family doc l'abbiamo chiamato così perché è una visita che può essere rivolta un po' a tutta la famiglia e perché l'abbiamo lanciato ad un prezzo che noi abbiamo detto familiare in quanto più basso rispetto alle visite specialistiche che si fanno normalmente il family doc è una figura lanciata da un gruppo di sanità privata che opera nel Padovano in Veneto è di fatto un medico internista a cui ci si può rivolgere dietro compenso per varie ragioni quello che noi possiamo supporre è ad esempio la visione degli esami ad esempio non sto bene ho bisogno di un antibiotico in farmacia non me lo danno oppure non so cosa prendere giustamente è giusto che sia un medico che mi vede ma il mio medico è lontano non so a chi rivolgermi allora a questo punto piuttosto di andare in pronto soccorso magari per delle necessità di non emergenza diamo una seconda opzione si calcola che solo in Veneto mancano 748 medici di famiglia 35 pediatri 635 nella guardia medica e 59 dell'emergenza in tutto 1513 medici un dato preoccupante ma fanno sapere dalla struttura nessuna intenzione di sostituirsi al sistema sanitario nazionale con il family doc non facciamo lo stesso servizio del medico di famiglia non possiamo fare certificati come ho detto siamo privati quindi non possiamo dare niente che sia mutuabile o appoggiabile in qualunque modo al servizio sanitario nazionale la polemica ha riacceso i riflettori sulla questione del rapporto tra sanità pubblica e comparto privato Nino Cartabellotta presidente della fondazione Gimbe ha recentemente dichiarato alla rivista One Health che il privato accreditato rappresenta una grande risorsa per il servizio sanitario nazionale ma deve mantenere la funzione di integrazione al pubblico erogare le prestazioni che servono dove e quando servono per poi aggiungere che purtroppo l'utilizzo improprio dello strumento dell'accreditamento in alcune regioni ha portato all'espansione incontrollata del privato anche in questo caso però va fatta la distinzione tra privato puro e accreditato La polemica di questi giorni è dettata proprio dal fatto che c'è una grande confusione fra il privato alternativo al sistema che è in crescita perché il sistema pubblico dà sempre meno prestazioni e un privato che opera invece con regole precise stabilite dalla programmazione regionale Le prospettive in cifre relative alla sanità pubblica o accreditata che sia purtroppo non sono buone per mantenere il sistema universale di cura italiano bisognerebbe infatti rispettare certi standard a livello di finanziamento sanitario e invece accade il contrario In un sistema ad accesso universale la letteratura ci dice che in tutti i paesi al di sotto del 7,5% del prodotto interno lordo è difficile che un sistema possa sorreggerci nel nostro caso noi siamo al 6,5% questo 6,5% tendenzialmente è destinato a diventare i 6% come ci dice il documento di economia e finanza triennale per l'anno 2025 Allora Zaffini questo è il privato privato di cui parlavamo però mi viene in mente vedendo questo servizio questioni che tutti conoscete che uno che oggi diventa medico perché deve andare in un ospedale pubblico per esempio va in una struttura privata guadagna di più sta meglio saranno sempre più richieste i servizi di queste strutture perché come si fa non sospiri sospiri perché è difficile le ricette facili ce l'hanno solo gli stupidi allora è chiaro che in questo momento noi dobbiamo renderci conto che un sistema universalistico i professionisti li paga meno di un sistema a pagamento questo è normale è normale se noi vogliamo pagare tutti garantire a tutti la medio alta specialità di cura e garantire i percorsi formativi è normale che questo sistema singolarmente paga qualcosa meno quindi già paragonare un medico in Italia sul servizio sanitario nazionale ed un medico in Danimarca o in Svezia o in Inghilterra su altro sistema che è strutturato architettato diversamente è una demenzialità e così vale per gli infermiere dice l'infermiere guadagna 4 mila euro in Svezia ma di infermiere in Svezia ce ne stanno un terzo di quelli che lavorano e operano in Italia noi il personale il nostro sanitario è nei numeri il più disponibile d'Europa cioè rispetto alla popolazione residente abbiamo più medici e più infermieri però mancano quindi è un tema di organizzazione di risk management è un tema di impostazione ma questa sanità noi l'abbiamo trovata organizzata così e quindi non è che in un anno o in un anno e tre mesi o in un anno e sei mesi si fa quello che per i vent'anni precedenti è stato fatto a rovescio pensate ai medici di famiglia ma era complicato stabilire quanti ne andavano in pensione e quanti ne sarebbero serviti era complicato basta una calcolatrice allora com'è che a un certo punto qualcuno ha inventato che quello che prima faceva un dottore un medico dopo lo fanno in tre com'è che qualcuno ha inventato che 500 famiglie potessero diventare per un medico di medicina generale 1500 c'è stata una regia luciferina allora rispetto a tutto questo perché io fatico un po' qualcuno ha chiamato ottimizzazione si chiamava ma quale ottimizzazione ma si può pensare che un medico di famiglia ha 1500 famiglie un pediatra di libera scelta deve seguire è una roba che evidentemente non regge con tutte le cose anche burocratiche che ha da fare bisogna formarli certo dopodiché attenzione altro tema non è che i medici di famiglia sono dipendenti del servizio sanitario nazionale sono convenzionati come il privato sono privati liberi professionisti convenzionati come le farmacie convenzionati a quota capitaria come si dice a quota capitaria allora anche lì dovremo fare una riforma perché è ovvio che non regge questo sistema che ci è stato consegnato mi fanno mi scusi così ci chiamiamo subito bisogna cominciare a pensare riforma che vuol dire inglobarli farli dipendenti bisogna a mio avviso allora Zaffini pensa che il sistema deve essere riformato in questo modo tre sono i livelli il medico assunto a sua scelta il medico convenzionato per quota capitaria come oggi e il medico convenzionato a ore come i sumaisti perché di questo c'è bisogno va riformato la categoria di medicina generale c'è da dire che rispetto alla categoria questa riforma trova resistenze perché questo fa parte dell'interlocuzione simbacale della negoziazione però questo è quello che penso io le riforme si fanno calandole in un sistema che è complesso però citando i medici i medici diciamo di medicina generale lei ha toccato un altro di quei tasti dolenti che è la medicina di prossimità e poi si riempiono i pronto soccorso diciamo cose che tutti sanno non è che siano segreti no che poi voleva aggiungere qualcosa rapidissima Barbara Cittadini sì io volevo ringraziare il professor Bassetti per aver fatto chiarezza dico l'utente sceglie non avendo interesse di chi è la proprietà giuridica delle strutture sceglie sceglie in base all'efficienza l'efficienza e la puntualità della risposta che ha ed è ben orientato il problema che si manifesta in tante regioni che noi siamo soggetti a una legge che è il DL95 del 2012 che blocca le risorse dal 2011 anzi ringraziamo questo governo che ha avuto il coraggio e la forza di nonostante le risorse fossero poche di modificare per la prima volta una legge di dubbia costituzionalità una legge emergenziale che dura per tanti anni non si era mai vista consentendoci di essere utili per smaltire le liste d'attesa di poter metterci al servizio e proprio sulle liste d'attesa vorrei dire una cosa quando lo Stato Centrale ha fatto il monitoraggio di chi aveva utilizzato tutte le risorse che le erano state assegnate per smaltire le liste d'attesa è emerso che la componente che rappresento le aveva utilizzate tutte mentre nel sistema ha detto ma non per fare comparazioni comprendo che il sistema delitto pubblico è in affanno per altri problemi non erano state utilizzate ecco perché è importante la sinergia e l'integrazione non si può continuare a ragionare in termini di contrapposizione di steccati di steccati anche ideologici di steccati anche perché la rete dei posti letto è fatta contabilizzando i nostri e i loro è chiaro che i nostri posti letto sono funzionali alla rete per erogare per erogare quella quantità di prestazioni soddisfando la domanda che si ha quindi io ringrazio intanto il governo perché per la prima volta si è superata diciamo o comunque si è messo mano a una legge da data posso chiedere una cosa visto che è sul campo al professor Bassetti da voi al San Martino come stanno le liste d'attesa ma guardi allora il problema delle liste d'attesa del San Martino non esiste nel senso che fondamentalmente noi siamo un ospedale per acuti per cui ti presenti al processo per noi evidentemente liste d'attesa non ce ne sono ci sono evidentemente ricoveri programmati o interventi chirurgici programmati che stiamo progressivamente smaltendo il problema è che anche noi in Liguria non possiamo non passare tramite l'alleanza con il privato accreditato per almeno alcune prestazioni quindi evidentemente ma questo ormai lo sanno bene devo dire lo sanno bene i presidenti di regione che sono quelli che per primi cercano la collaborazione col privato guardi noi in Liguria abbiamo capito quanto il privato fosse importante sa quando con la vaccinazione del covid noi abbiamo fatto una delle più grandi campagne vaccinali della storia dell'Europa grazie alla collaborazione che c'è stato tra pubblico e privato da una parte il pubblico che faceva le sue il privato con le farmacie il privato con le strutture convenzionali quindi è stata una celebrazione di quanto si deve lavorare tutti insieme senza differenziazioni ideologiche di sorca dopodiché lo dico da medico nel momento in cui ci sarà un privato vero completo come già c'è ci sarà più concorrenza evidentemente ci saranno anche migliori stipendi migliori condizioni di lavoro per i medici e per gli infermieri come avviene in tutto il resto del mondo quindi ci adeguiamo a quello che è alla direzione in cui va tutto il mondo eravamo rimasti uno degli unici dei pochi paesi unicamente pubblico ci stiamo adeguando a quello che succede in Francia in Germania in Spagna ma per tutto è così guardate che non è diverso degli altri paesi europei chiaro allora devo andare un attimo scusate se avete un tweet a testa posso il problema non è la proprietà privata o pubblica ma è la scarsità dell'offerta di servizi a costo zero quasi per i meno ambienti ecco e questo si risolve con una probabilità di sistemi tra cui anche il privato convenzionato che può lavorare ottimamente su alcune parti di questo problema anche sussidiando in modo incrociato le prestazioni gratuite o avendo la convenzione e le rette dal pubblico quindi usiamo tutti gli strumenti usiamo anche questi modelli ibridi per risolvere il problema che è la scarsità ma di chi non può curarsi non ce la fa curarsi non ha le risorse economiche per curarsi questo è il problema principale Paolo buongiorno allora buongiorno abbiamo qui potremmo giocare con i colori il verde sono piogge molto molto deboli e quasi assente perché abbiamo invece il blu delle piogge moderate e il giallo e il rosso di quelle intense che vedete prendono gran parte del nord del centro e del sud specie sul versante tirrenico la Sardegna quindi maltempo ancora marcato per tutte queste 24 ore domani c'è un segno di attenuazione dei fenomeni Piemonte e Valle d'Aosta ancora fenomeni meno intensi ma sono ancora ben presenti al nord e al centro sud soprattutto la parte tirrenica poi infine lunedì si comincia a vedere l'inizio della fine del maltempo perché le schiarite al nord ci sono l'attenuazione dell'intensità dei fenomeni al centro c'è con l'esclusione dell'Emilia Romagna e poi il basso il basso tirreno e nella fase di miglioramento sarà anche la fase in cui le temperature scendono scenderanno sui valori normali per la stagione il che significa molto più bassi di quelli che abbiamo avuti fino a adesso tra l'altro questo freddo tra virgolette non durerà nemmeno tanto bene bene insomma secondo dei gusti grazie Paolo Sottocolona pubblicità torniamo subito riprendiamo alcuni dei discorsi fatti ma soprattutto ci proiettiamo un po' nel futuro direi nel presente si è parlato molto nei giorni scorsi come sapete di Neuralink questo progetto di Elon Musk insomma un chip impiantato nel cervello lo vediamo dopo la pubblicità da quando Elon Musk ha annunciato di aver impiantato con successo un microchip nel cervello di un uomo non per aumentare le sue potenzialità ma semmai per superarne i limiti quando qualcosa non funziona molti si chiedono che ne sarà di noi vecchi modelli umani tradizionali Neuralink ha imparato il linguaggio degli impulsi neuronali e ora con il progetto Telepathy sempre di proprietà di Musk si sta sperimentando le possibili connessioni tra l'uomo e computer in campo medico ne trarrebbero vantaggi svariate malattie dall'Alzheimer alle difficoltà motorie il paziente zero affetto da paralisi con l'impianto del microchips in testa può già comandare senza toccare con le mani una tastiera un telefono un interruttore ma sulle applicazioni future sono in tanti a fare ricerca all'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova con la start-up Corticale è stato realizzato un dispositivo della dimensione di un capello capace di contenere centinaia di elettrodi degli elettrodi ma sono molto più avanzati di quelli che sta usando Elon Musk con minor danno possiamo acquisire molta più informazione dal cervello rispetto a quello che la tecnologia di Elon Musk può oggi fare sono collegati ad oggi con dei fili ma stiamo lavorando su delle tecnologie wireless e l'obiettivo è proprio quello di rendere l'impianto il più invisibile possibile possiamo indirizzare malattie come l'ipilessia o altre disfunzioni la depressione profonda che non è trattabile farmacologicamente e quindi dare risposte a pazienti che oggi non sono trattabili è bene sognare sulle tecnologie future ma il processo di interazione uomo-macchina è sotto esame per le sue implicazioni etiche infatti nel pensare quanto potranno cambiare le nostre esistenze grazie alla neurotecnologia e all'intelligenza artificiale c'è da credere che il cambiamento riguarderà anche il modo di pensare il tempo gli spazi di azione e c'è chi intravede dei pericoli per le nostre libertà questioni di etica e di diritto e adesso c'è una notevole discussione sul tema dei neurodiritti cioè come regolare le neurotecnologie e le neuroscienze e ci sono tre aspetti fondamentali il primo la garanzia proprio dell'integrità fisica-psichica il secondo è anche la garanzia della cosiddetta privacy cerebrale cioè la riservatezza del pensiero visto che queste neurotecnologie possono leggere la mente e poi evitare le neurodiscriminazioni cioè le discriminazioni sulla base delle caratteristiche cerebrali e mentali perché queste tecnologie oltre a curare possono anche potenziare certe capacità mentali al momento quello che abbiamo sono delle raccomandazioni agli stati del mondo che sono state lanciate dall'Ox e dall'UNESCO nel 2021 percepisco una certa lentezza rendersi conto delle problematicità e quindi ritengo che questo sia uno dei temi accanto insieme a quello dell'intelligenza artificiale da porre come particolarmente urgente oggi sia per l'etica che per il diritto ecco questo per capirci perché giustamente il senatore Zaffini prima diceva è cambiato tutto negli ultimi 20-30 anni questo è già presente e dobbiamo pensare che molto altro verrà quindi al di là della giusta preoccupazione di quanto siano sostenibili economicamente i nostri servizi sanitari ci sono altre questioni che sono gigantesche no? Leonardo Becchetti il metodo è sempre quello partire dai valori la non discriminazione posso fare vedere scusa interrompo facciamo vedere il libro l'ultimo del professor Becchetti che è guarire la democrazia per un nuovo paradigma politico ed economico per minimo un fax sì dicevo non discriminazione privacy e poi applicarlo ai nuovi problemi tra l'altro qui parliamo anche di un problema che ci crea oggi l'intelligenza artificiale che è molto banale ce ne sono altri molto più complessi che è quello della manipolazione delle preferenze cioè noi oggi abbiamo un conto io dico la comunicazione diciamo sa che stimolare un po' il conflitto aiuta perché magari però un conto è farla alla luce del sole no? certo magari invitando persone non come quelle di oggi perché sono stati straordinari polarizzare anche un conto è farlo in modo manipolatorio con un social media dove ti si fanno vedere certe cose invece che altre e alla fine ci si accorge questo sono studi scientifici straordinari su questo che aumentano la polarizzazione delle preferenze e che hanno creato degli eventi che probabilmente non ci sarebbero stati senza social media come l'assalto alla Casa Bianca dei sostenitori di Trump e come l'assalto a Brasile dei sostenitori di Bolsonaro quindi ci sono delle questioni molto grosse a cavallo tra comunicazione uso dei social che sono fondamentali per la sopravvivenza della democrazia e degli esseri umani no peraltro rispetto a questi discorsi pensiamo appunto ai progressi giganteschi formidabili della ricerca delle scienze per la vita pensiamo anche a tutto quello che arriverà dall'industria farmaceutica del mondo cioè poi ci sono cure che costano l'ira di Dio chi se le potrà permettere anche quella sarà un fattore di discriminazione e quindi di confronto e di discussione professor Bassetti ancora su questo vorrei anche da lei sul futuro una battuta e approfitto per far vedere del professor Bassetti l'abbiamo già presentato Pinocchi in camice sulla salute non si scherza per PM ma questa parte riguarda appunto tanti anche medici ma non solo medici che insomma si che diventano che cosa paladini delle fake news paladini delle balle ci sono i medici che le raccontano però poi ci sono anche i pazienti i craduloni che gli vanno dietro sì no una battuta guardi io credo che l'intelligenza artificiale o qualche modo tutto il supporto che può arrivare alla salute dal progresso tecnologico è qualcosa di benvenuto però noi dobbiamo fare molta attenzione io parlo ai medici che se troppo si va verso questo sistema noi perderemo la nostra ragione di esistere di essere allora abbiamo solo uno strumento per difenderci o per complementarci ancora di più con l'intelligenza artificiale e col progresso che è quello di essere empatici e di ascoltare e di mettere una pancia sulla pancia appunto scusi il visticio dei nostri pazienti cioè noi dobbiamo tornare a fare quello che ci hanno insegnato i nostri maestri i medici oggi devono fare i medici cioè ascoltare auscultare mettere una mano sulla pancia perché se continueremo a fare i medici via whatsapp o via telefono o via internet noi moriremo allora aspetti questa è molto importante questa sottolineatura per essere più vicini ai pazienti sì in chiusura perché questo quello che diceva il professor Bassetti diciamo contempla poi tutto lo sforzo che si sta facendo per la digitalizzazione la telemedicina cioè c'è questo rischio assolutamente sì e del resto è un rischio generalizzato le banche non prestano più i soldi i medici non visitano più a casa cioè ormai siamo davanti a parecchi paradossi di questo genere però sul caso della telemedicina sul caso della necessità di monitorare a domicilio i cronici sul caso di sviluppare la cartella sanitaria elettronica cioè il fascicolo sanitario ci sono piani di un ospedale piani di uno stesso ospedale che un piano non legge il fascicolo del piano sotto cioè è una roba che evidentemente però senatore io sono d'accordo al cento per cento perché meno male che c'è però almeno una volta sulla pancia di quel paziente no sono d'accordo questo dopo diciamo e magari anche andare anche il medico di famiglia che va a casa insomma una volta al anno una volta al mese io dico che la rivoluzione è già in atto e noi siamo in ritardo cioè l'Italia e l'Europa in ritardo rispetto a Stati Uniti e Cina sull'impatto dell'intelligenza artificiale e delle neurotecnologie siamo in ritardo su tutto la grande sfida etica guardate non è soltanto l'applicazione tecnologica etica perché già è possibile l'interconnessione uomo-macchina che se da un lato immaginiamoci possiamo sapere esattamente se ti sta arrivando se hai una molecola del cancro che si sta sviluppando o se una certa patologia in senso tutte cose positive puoi avere delle applicazioni epidemiologiche enormi ma dall'altra c'è il controllo dell'uomo sembrano quasi quei film degli anni 60 che c'erano il viaggio allucinante me ne ricordo uno terribile dove l'uomo perde la sua funzione nel rapporto con la macchina bilanciare queste due questioni è complicatissimo noi abbiamo già perso la sfida quella web è una sfida ma c'è una gravissima sfida la sfida internet l'abbiamo persa rispetto a dieci anni fa oggi questa noi i legislatori dobbiamo porci delle questioni etiche che prima erano immaginabili un'ultima cosa però ve la voglio dire in questa trasmissione se il servizio sanitario nazionale non sarà forte la parte pubblica forte anche nella gestione di questi processi le cose non si metteranno bene speriamo di no ovviamente e che insomma ci siano le soluzioni alle criticità di tanti problemi complessi che oggi abbiamo provato cercato di raccontare grazie al senatore Zaffini grazie a Bettice Lorenzin grazie Donato Becchetti grazie al professor Bassetti grazie a Barbara Cittadini buona domenica a chi ci ha seguito buona domenica a tutti voi noi ci vediamo lunedì stesso luogo stessa ora grazie senza la proprietà dei dati se i dati sono grazie a tutti grazie a tutti